Al momento nulla trapela, ma gli investigatori dei carabinieri di Forlì sarebbero già sulle piste delle persone, quasi sicuramente albanesi, che attorno alle 3.30 di ieri notte hanno provocato una pericolosa risse in un locale notturno della città, terminata con l'esplosione di alcuni colpi di pistola. I militari avrebbero già individuato buona parte dei personaggi coinvolti in questo allarmante avvenimento. E' accaduto all'interno del Nanà, dove nel cuore della notte, fra sabato e domenica, si trovavano diverse decine di clienti. Erano presenti, secondo quanto riferito ai militari da numerosi testimoni, anche due gruppi di albanesi. I due gruppi si sarebbero guardati in cagnesco per diverso tempo, poi sarebbe iniziata, non è dato saperne il motivo, prima una lite con uno scambio di insulti, per poi passare alle mani. A questo punto qualcuno ha estratto un'arma e ha iniziato a sparare, provocando un fuggi-fuggi generale fra i clienti e i personali del locale. Pare che al primo colpo di pistola ne siano seguite degli altri, probabilmente esplose da entrambe le fazioni che si affrontavano. Resta il fatto che quando i carabinieri sono arrivati sul posto, degli albanesi più nessuna traccia. Sul pavimento del locale alcune macchie di sangue, inequivocabile traccia che qualcuno si è ferito, non è chiaro se colpito da un proiettele o per altro motivo. Il locale è stato posto sotto sequestro per eseguire le necessarie perizie balistiche e raccogliere ogni elemento utile alle indagini.